Ieri Green Day alla Villa Comunale di Cassino, una giornata in favore dell'ambiente contro le Ecomafia, una manifestazione organizzata dal Comune e da Lega Ambiente. La manifestazione è stata un'iniziativa proposta da Lega Ambiente, diciamo che rientrava nelle iniziative che abbiamo organizzato nel corso di questi mesi per sensibilizzare i cittadini e soprattutto i bambini a una differenziazione corretta dei rifiuti e soprattutto per prevenire il fenomeno dell'abbandono. Abbiamo scelto la Villa Comunale perché è il polmone verde della nostra città e quindi abbiamo spiegato loro quali sono le risorse della nostra villa. In più il valore aggiunto è arrivato dal carro che era stato preparato in collaborazione sempre con gli soci di Lega Ambiente nel corso del Carnevale di San Giorgio all'Iri, un carro interamente dedicato alla tematica ambientale in cui è stata riprodotta un insetto importantissimo per l'ecosistema naturale che è l'Ape e che è un importante indicatore ambientale. Proprio nella Villa Comunale nel mese di gennaio noi abbiamo dovuto togliere un enorme nido di api e questo sta a significare comunque che all'interno della nostra villa la qualità dell'aria è molto buona. Un'iniziativa molto importante che Lega Ambiente sta portando avanti è quella di andare a controllare l'incidenza tumorale della zona passando attraverso lo studio dei tumori a livello animale e entrando a conoscenza, sperando grazie ai cittadini della zona, dei casi tumorali a livello umano ad avviso di Lega Ambiente e non solo, anche di altri studi anche internazionali c'è un'incidenza maggiore nella provincia di Frosinone. Sono entrato a conoscenza settimana scorsa di una relazione scritta dall'ASL provinciale in cui quest'ultima dichiara che nella provincia non è assolutamente vero che ci sia un'incidenza maggiore di tumori. Per quanto riguarda il circolo non siamo assolutamente convinti di tutto ciò ed andremo avanti con i dovuti controlli sperando che l'ASL abbia ragione. Alla manifestazione contro le geomafie Cassino c'era anche Antonio Michele Moccia lo scrittore del libro La Terra dei Fuochi, lo abbiamo intervistato. Il libro parla dello sversamento illegale dei rifiuti in Campania uno sversamento che è iniziato dagli anni Ottanta e continua tuttora. Il testo riprende in modo particolare atti di tribunale della procura di Napoli e tira in ballo diverse persone tra cui numerosi politici ed imprenditori. Sicuramente c'è stato un interramento dei rifiuti sia in Campania e anche a Cassino perché quando si parla di rifiuti essenzialmente dagli anni Ottanta fino al 2006-2007 esistevano due rotte, la rotta tirrenica e la rotta triatica e la rotta tirrenica quindi i rifiuti si sversavano Lazio, Campania e Calabria quindi comprende il Lazio anche la zona del Cassinate. Poi dal 2008 in poi le organizzazioni criminali si sono un po' adeguate e ora sversano invece verso il nord. Ci sono numerosi atti nella procura di Milano che attestano che aziende collegate all'Andrangheta sversavano nelle regioni della Lombardia e del Piemonte. E con questo è tutto, adesso in studio arriva Cristina Iorio per la pagina sportiva l'informazione torna come sempre domani alle 13.15. Grazie a tutti e buona serata.